Sono stati interrogati fino a tarda sera dal procuratore capo Mario Spagnuolo e dal sostituto Giuseppe Visconti. Poi per Daniele Francesco Bevilacqua e per Laura Smampinato si sono aperte le porte del carcere. Le accuse sono di sequestro di persona, minacce e restorsione. L'arresto è stato realizzato dagli uomini della squadra mobile della questura di Cosenza guidati dal dirigente Fabio Catalano. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva contrattato con un imprenditore catanzarese l'acquisto di alcuni mobili e versato la caparra, senza però ottenere la consegna della merce. Nella giornata di ieri la donna e l'imprenditore, che aveva con sé i due figli minorenni, si sono incontrati a San Lucido, centro del Tirreno Cosentino, per chiarire i dettagli della vendita stipulata nel luglio scorso. Ad attenderlo all'incontro non c'era l'acquirente, bensì due uomini che hanno iniziato una discussione poi degenerata fino a quando i due hanno minacciato e intimato all'imprenditore di restituire loro la caparra più del doppio. A quel punto hanno aggredito e picchiato la vittima per poi portarla insieme ai due figli in via degli stadi. L'imprenditore è stato lasciato per strada e, terrorizzato, ha subito chiamato il 113, mentre i bambini sono stati portati via dai tre a scopo intimidatorio. I minori sono stati poi ritrovati in un appartamento in compagnia della donna, mentre i due uomini sono stati fermati poco dopo nei pressi dell'abitazione e portati in questura a Cosenza, dove poi si è proceduto all'arresto.